Musica Amici sportivi buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva di Antenna Sud in apertura parliamo di basket. L'Epicasa Brindisi esce sconfitta dal derby del sud con Napoli, la match ovviamente che è vinto dai partenopei è finita 79-69. Brutta partita per l'Epicasa Brindisi che esce sconfitta dal pala barbuto di Napoli per 79-69. Un match che vede i biancazzoli di coach Vitucci in partita solo nei primi 20 minuti, poi la Gevi trova la serata giusta al tiro con i pugliesi, sempre ad inseguire. Frank Vitucci sceglie nuovamente Udom in cui tento base come numero 4 al posto di Adrian. Nel primo tempino i ritmi sono alti, si segna da una parte e dall'altra con Harrison e Udom che trascinano Brindisi e Zerini. Con l'aiuto di McDuffie tiene a gala la Gevi, 22-18 per i biancazzurri e la prima sirena. Nel secondo tempino la New Basket continua a farsi trovare in preparata su pick and roll centrale con i partenopei che crescono tanto al tiro. Redivo ci mette come sempre una pezza in attacco ma Parks per Napoli è in serata e spacca la difesa sia dalla media che dall'arco. Alla pausa lunga e ancora equilibrio, Gevi 39 e Picasso 38 quando si torna in campo. I Brindisini sono in totale confusione, McDuffie suona la carica, Parks è un vero cecchino con Rich che ci mette tutta l'esperienza. Coach Vitucci fa ruotare i quintetti ma i campani sono più ordinati in attacco e tirano con percentuali importanti. 64-51 per i padroni di casa al trentesimo. Nell'ultimo quarto non cambiano molto le cose, con la Gevi che comanda il gioco e la New Basket sempre ad inseguire. Harrison ci prova ma i compagni non lo supportano. Perkins pure ma la difesa di Napoli è un muro invalicabile. 24 ore di tempo per caricare le batterie prima di tornare in palestra a martedì per la ripresa degli allenamenti. Domenica a Brindisi arriva la Ope John Medis Varese. Ed è stata una domenica dalla Sapore Agrodolce per lo sport nel capoluogo messapico perché se da una parte l'Eppi Casa Brindisi è uscita sconfitta dal derby con Napoli nel calcio il Brindisi vince lo scontro diretto per la permanenza in Serie D battendo il Casarano per una rete a zero Davide Cucinelli. E il Brindisi ha da giudicarsi il derby salvezza contro il Casarano. La formazione bianca-azzurra vince grazie alla rete esiglata nel finale del primo tempo da Giuseppe Lopez. Il Casarano nel secondo tempo prova a premere nella metà campo avversaria. Sfiola il pareggio ma non riesce a equilibrare le sorti dell'incontro. Al nono minuto ci prova il Brindisi con Lopez. La posizione defilata la sfera però termina alta sulla traversa. La gara è frammentata e i ritmi sono bassi nella prima parte dell'incontro. Al trentatresimo ci prova Coronese per il Casarano. La sfera non inquadra la porta brindisina. Al trentottesimo il Brindisi sblocca il risultato. Azione insistita. Ci prova prima Morleo sottomisura. Il tiro poi dal limite. La sfera termina per Lopez che trova la zampata vincente che vale l'uno a zero. Nel secondo tempo ci prova subito Bacet dal limite. Attento gli anni alla deviazione. Al sesto è Casarano. Protesta per un tocco di mano nell'area di rigore brindisina. Il direttore di gara lascia proseguire. All'ottavo è Fontana a provare un tiro a girare che termina però di poco sul fondo. Ancora il Casarano che insiste. Al ventesimo colpo di testa di Sant'Arcangelo sul secondo palo che però non inquadra la porta brindisina. Il Brindisi prova a sfruttare gli spazi nelle ripartenze. Al trentacinquesimo Gallian ci prova dal limite con la sfera che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Il Casarano nel finale continua a premere. Al quarantunesimo ci prova Tedesco che trova lo spazio per girarsi in area di rigore. Il tiro è debole parato da Cavalli. In pieno recupero poi al novantaquattresimo su calcio d'angolo. E' attento Cavalli a deviare il pallone sulla traversa. E' l'ultima occasione della gara. Il Brindisi festeggia a tre punti importanti. Il Casarano esce comunque a testa alta da Alfanuzzi. Rascoltiamo ora le dichiarazioni post gara dei due tecnici di Costanzo e Monticciola. Le ultime due partite avevano vinto col Bitonto che non è l'ultima della classe e con la Mariglianese che ieri mi sembra che abbia vinto o meglio stava vincendo 2-0 poi è stata sospesa ho sentito però a dimostrazione del fatto che di fronte avevamo una squadra che c'era da aspettarsi che in svantaggio gettasse il cuore oltre l'ostacolo e ci mettesse in difficoltà. E quindi abbiamo sofferto. Forse avevamo bisogno di tenere un po' più palla in avanti però poi abbiamo avuto un'occasione straordinaria per fare il 2-0 nel finale perché loro veramente si sono sbilanciati molto. Al di là di tutto io ritengo che il Casarano meritava di più. oggi a noi ci è andata bene, abbiamo saputo soffrire e attraverso questa generosità, questa sofferenza comunque abbiamo trovato i tre punti che per noi sono rocolato. Mi aspettavo una partita diversa sul piano tattico nel primo tempo e quindi ho fatto una partita un po' più accorta poi si sono messi 3-5-2 nel secondo tempo ho cambiato perché secondo me si poteva guadagnare campo con un altro sistema di gioco però al di là dell'aspetto tattico credo che la squadra si può anche perdere nella vita sempre come perdi oggi abbiamo perso da squadra abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione peccato perché ci è mancato quello spunto finale, quei particolari qualche episodio oggi ci ha detto male nelle altre partite ci aveva detto bene questo è il calcio, non c'è tempo per ricriminare ci dispiace per noi stessi in primis per i tifosi che sono venuti, per il presidente, per tutti quanti però è una battuta d'arresto dopo tanto tempo che non volevo però dobbiamo ripartire subito ricaricare le batterie perché fra due giorni c'è una partita importantissima col Francavilla Sin qui il calcio giocato ora parliamo del Lecce Coda verso 100 gol è contro il Frosinone la prima occasione Matteo Bottazzo Il bomber giallorosso Massimo Coda ha portato di mano un traguardo che lo proietterebbe tra i grandi attaccanti della Serie B fino ad oggi infatti sono 99 in 208 presenze qualcosa in più di un gol ogni due partite la media gol del centravanti Campano che nel corso della sua esperienza a giallorosso ha migliorato questo dato infatti i gol sono 40 in 65 gare ufficiali dati stratosferici che valgono al centravanti Campano la diciannovesima posizione in classifica all time dei marcatori del torneo cadetto con un gol raggiungerebbe quota 100 un mito assoluto come Igor Protti mentre a 103 c'è Mimmo Francioso che con le maglie di Lecce e Genoa si è tolto non poche soddisfazioni tra cadetti un traguardo prestigioso che si spera possa essere raggiunto e migliorato nel corso di questo campionato con l'auspicio che Coda non sia più protagonista a queste latitudini del calcio nella prossima stagione ma intanto già col Frosinone la prima opportunità di arrivare a quota 100 gol in Serie B la Virtus Francavilla scopre il peso in avanti di Bomber Patierno sentiamo Dennis Magri l'attacco sulle spalle di Chico Patierno la Virtus Francavilla ha scoperto in casa il centravanti che fa la differenza il numero 9 se messo nelle condizioni migliori sa come lasciare il segno e il 3-4-2-1 studiato in estate da Taurino è scelto per questo girone di ritorno tende proprio a esaltare le caratteristiche della punta bitontina un gol ogni due partite 6 in 12 presenze con la maglia bianca-azzurra un bottino niente male per uno rimasto fermo a lungo per mesi a causa di una squalifica per certi versi anche abbastanza discutibile assegnato in tutti i modi possibili e immaginabili di testa con conclusioni da fuori dal dischetto con la zampata da centravanti vero all'esordio sotto la curva sud e poi con chi gioca alle sue spalle l'intesa è massima con Perez ad esempio riescono ad alternarsi come una bilancia in campo uno si abbassa l'altro attacca alla profondità e per un centravanti di razza come lui un rifinitore del calibro di Maiorino rende tutto più facile e poi c'è Mastropietro il principale competitor in zona gol negli ultimi mesi con cui scherza in campo e nello spogliatoio a certificare il grande rapporto intanto la Virtus e Taurino si godono i gol e i numeri di Patierno un centravanti di razza pronto a trascinare in alto il Francavilla in questo finale di saggione Virtus Francavilla che tornerà in campo giovedì prossimo nel recupero della match intera campana con la Turris adesso parliamo del Taranto un Taranto che invece mercoledì scenderà in campo per un altro recupero quello della ventiduesima giornata con il Palermo oggi la conferenza pre-gara del tecnico La Terza la squadra in questo momento siamo riusciti a recuperare qualcuno dal punto di vista purtroppo della sofferenza del Covid però adesso gran parte del gruppo è al lavoro si è allenato negli ultimi giorni quindi siamo riusciti a fare una... meno 4-5 giorni tutti insieme e quindi siamo preparati per quello che adesso è il momento importante da vivere cioè il momento dove tutti insieme dobbiamo pensare a queste tre gare da recuperare cioè già quella di mercoledì è una gara importante e lo dobbiamo fare con l'atteggiamento giusto e colpire lo giusto perché da adesso in poi sicuramente sono 4 sono 7 gare importantissime per noi e lo dobbiamo vivere tutti cercando di trarre il massimo da ogni gara perché purtroppo siamo alla fine del campionato mancano 4 partite per il campionato e quindi ogni gara è importante e ogni gara visto anche i risultati di ieri per noi è determinante tornare in campo con il ritmo giusto con la testa giusta per cercare di rilasciare la spina perché da due settimane che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di giocare purtroppo è stato secondo me un handicap perché cala il ritmo un attimino però adesso dobbiamo partire subito a mille non abbiamo scuse non abbiamo alibi non abbiamo nulla e mercoledì è una partita importantissima per noi e l'approccio al momento deve essere devastante da parte nostra indipendentemente da tutte le problematiche che abbiamo dovuto vivere in questi giorni Torniamo a parlare di Serie D andiamo a vedere le immagini di quello che è accaduto sabato scorso a Marigliano tra Mariglianese e Nardò una gara che non si è conclusa è stata sospesa con la Mariglianese avanti di due reti sui neretini in match come dicevamo sospeso per un infortunio a corso all'arbitro ma vediamo che cosa è accaduto nei primi 45 minuti nel riassunto è durata solo un tempo l'attesa sfida salvezza del Santa Maria delle Grazie fra Mariglianese e Nardò la gara è stata infatti sospesa nel corso dell'intervallo sul parziale di 2-0 in favore dei campani a causa di un infortunio del direttore di gara che ha accusato un problema alla coscia una problematica che non ha permesso la prosecuzione dell'incontro perché in Serie D non vi è il quarto uomo come accade nelle categorie superiori e quindi gara sospesa primo round perciò deciso da una doppietta del solito Gennaro Esposito a segno al ventesimo di testa sul preciso cross di Mincillo il bomber campano si è ripetuto poi 15 minuti più tardi facendosi trovare pronto sottoporta sul servizio di Arcari adesso il Nardò dovrà cercare di ritrovare le forze e le energie per andare a recuperare l'ennesima partita di questo campionato la penultima posizione potrebbe essere Bugiarda con due gare e mezzo da recuperare ed era questo il nostro ultimo servizio grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti